carissimi amici e amiche siamo alla diciottesima puntata del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo stiamo continuando il nostro viaggio e questa sera passa per una tappa che potremmo sintetizzare diciamo così con un titolo slogan che diciamo così quello che siamo oggi come siamo e come eravamo un tempo quindi quello che abbiamo perduto e dovremmo parlare continuando e proseguendo il discorso della volta scorsa quindi concludendolo bene di come è l'uomo di come è stato fatto da dio e anzitutto quindi di come siamo fatti da un punto di vista ontologico psicologico e secondo la filosofia e la teologia classica che si basa molto anche su quello che è come dire per certi aspetti facilmente constatabile dal punto di vista empirico e poi dovremo andare a vedere come la perfezione dell'uomo si manifestava nel momento in cui è stato creato da dio e quello che è stato perso ricordando sempre che anche il senso di tutto quanto il nostro percorso il viaggio che stiamo facendo mira semplicemente a farci ritrovare noi stessi detto proprio in poche parole nella nostra bellezza e la perfezione della vita noi la vivremo tanto quanto per grazia di dio ovviamente ma evidentemente anche con l'ausilio della nostra buona volontà riusciremo a avvicinarci quanto più possibile a quello stato di perfezione in cui siamo stati creati da dio e in cui per quanto sta in lui egli ancora vorrebbe vederci e che per portarci lì dove eravamo ha portato ha mandato il suo figlio a compiere l'opera dell'umana retenzione e lo ha lasciato gli ha dato l'incarico di cominciare a farci pregare attraverso le parole del padre nostro dicendo venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra che a partire da quella grande opera della retenzione che ha preso avvio si potesse arrivare fino a un punto in cui tanto grande la santità come dire recuperata dall'uomo che si avvicina ecco a e la alla santità delle origini e quindi a quella che è la vita del cielo perché in cielo si fa la volontà di dio come in cielo così in terra ecco perché questa ciclo di catechesi si chiama in questo modo dal non senso il non senso una vita nel buio non senso una vita dove non si sa chi siamo non si sa che cosa ci succede non si sa da dove veniamo non si sa dove andiamo non si sa che cosa dobbiamo fare non si capisce niente la vita di cielo invece è una vita come dire di felicità di beatitudine che anticipa certamente in maniera imperfetta e analogica però vera quella che sarà la pienezza della beatitudine che ci attende non in questa ma nell'altra vita ecco non so voi ma io sinceramente non vedo l'ora di lasciare questa valle di lacrime terminata per carità tutta la missione che il signore se pensa di fare qualcosa con me insomma faccia però per quanto mi riguarda se dipendesse da me avrei già salutato tutti quanti da da un pezzo se dipendesse da me e se non avessi conti in sospeso con la divina giustizia o col purgatorio detto proprio fra me e voi comunque vabbè chiusa questa poco interessante parentesi personale torniamo a noi la volta scorsa abbiamo cominciato a vedere un pochino come l'uomo adesso facciamo una sintesi riepilogativa e poi una focalizzazione nel dettaglio di ciò che è l'uomo abbiamo visto la volta scorsa i gradi di essere dio sintetizzo è dio angelo uomo animale pianta materia inerte questi sono i gradi di essere conosciuti nell'uomo si racchiude il microcosmo perché l'uomo è spirito e materia o meglio anima e corpo abbiamo già visto che l'anima si distingue in due diciamo così l'anima attenzione l'anima è una sostanza puramente spirituale e come tutti quanti gli spiriti se uno dove si dire dov'è la tua anima sant'ommaso risponde l'anima è tutta e dappertutto l'anima è nel corpo come dio è in tutto ciò che sappiamo benissimo che dio è immenso cioè in cielo intero in ogni luogo ed è tutto e dappertutto la mia anima la tua anima è tutta e appertutto con la totalità della sua essenza non con la totalità delle sue funzioni perché le facoltà superiori hanno una sede secondo la agnosiologia e la psicologia classica che è il cervello quindi la parte superiore dell'anima questo credo che sia condiviso anche da un punto di vista scientifico mentre la parte inferiore cioè i sentimenti e le passioni secondo la psicologia classica a mio modesto avviso insomma almeno da un punto di vista empirico non credo molto distante anche dalle moderne e conquiste della scienza su cui però non entro perché non faccio l'anatomo o il medico insomma cose di questo genere si trovano nel cuore ecco la parte superiore dell'anima si chiama anche razionalità o spirito perché conosce la bibbia quando san paolo dice il dio della pace vi santifica la perfezione tutto quello che vostro spirito anime corpo si conservi treprensibile fa riferimento a questa tripartizione dell'uomo che era tipica della teologia orientale cioè che cosa è successo anche perché capiamo un pochino gli scritti in oriente e la parte superiore di ciò che in occidente è chiamata l'anima o razionalità viene chiamata spirito che è quella che ci rende appunto spirituali e ciò che ci differenzia dagli animali l'abbiamo visto la volta scorsa no perché nello spirito si trovano le facoltà spirituali quindi cioè l'intelletto la volontà e la memoria spirituale d'accordo e quindi la sede della conoscenza speculativa pratica la sede delle scelte morali la sede della libertà eccetera no la parte inferiore era chiamata semplicemente anima da cui deriva anche animale no quindi cioè vedremo oggi la parte diciamo più più bassa dell'anima in occidente si chiama parte inferiore santommaso la chiama anche parte inferiore si chiama anche area sensibile o della sensitività d'accordo in oriente si chiama semplicemente anima quindi tanto per far capire noi occidentali diciamo anima e corpo e distinguiamo l'anima in parte superiore sede delle facoltà spirituali e parte inferiore sede delle sensi e delle passioni in oriente lo spirito equivale alla nostra parte superiore dell'anima quindi si fa riferimento alle facoltà spirituali anima alla parte inferiore dell'anima e corpo alla corporeta su questo insomma siamo abbastanza abbastanza d'accordo insomma no quindi corpus o soma sia che sia latino che greco è la stessa cosa va bene detto questo allora andiamo a vedere un po allora l'intelletto e nobilissima facoltà è il principio della conoscenza attraverso l'intelletto e si forma adesso non voglio fare un trattato di filosofia o di gnosologia l'intelletto si formano dapprima le idee quindi le immagini che poi vengono composti attraverso i processi raziocinanti l'intelletto si esprime nel parlare attraverso il linguaggio linguaggio che è quello che impariamo fin da quando siamo piccolini ma sappiamo benissimo che le lingue possiamo impararne quante vogliamo soltanto se ci abbiamo voglia di studiare un poco insomma per imparare una lingua non è un'impresa molto molto semplice no e la volontà è ciò verso cui tendiamo come dire appetiamo qualcosa è chiamato in occidente anche l'appetito razionale no quindi attraverso la volontà noi facciamo le scelte attraverso la volontà noi elaboriamo come dire tendiamo verso qualcosa che poi l'intelletto rielabora facendo progetti o cose di questo genere no quindi la volontà è unita all'intelletto abbiamo già detto la volta scorsa formano quella meravigliosa realtà umana che è la libertà e che in noi esseri umani purtroppo diciamo purtroppo perché scusiamo prevede anche il libero arbitrio abbiamo già introdotto la volta scorsa la differenza che c'è tra libertà e libero arbitrio la libertà è la cosa più bella che esiste e che quella che ci rende simile a dio è la possibilità di scegliere tra più cose buone cioè una cosa lecita una cosa buona una cosa ottima la vita dei figli di dio dovrebbe essere vita di persone libere persone libere significa semplicemente che fanno soltanto scelte buone poi bisogna dire che sono buonine discrete ottime eccellenti straordinarie eroiche questa dovrebbe essere la nostra vita in quanto esseri umani questa una dotazione che dio ha voluto dare c'è la possibilità di scegliere anche il male e quando la nostra libertà si trova nell'alternativa tra bene o male si chiama libero arbitrio se scelgo il bene ho usato bene libero arbitrio se scelgo il male purtroppo vado a fare danni a me e intorno a me sto sintetizzando perché soltanto per questi argomenti se si facesse un ciclo di catechesi soltanto per questa per questa cosa qui però non possiamo fermarci troppo tempo scendiamo nella parte diciamo così inferiore dell'anima quindi la sensibilità si chiama tecnicamente e la sensualità san tommaso richiama la conoscenza sensibile e l'appetito sensitivo o animale allora nella sensibilità hanno sede i sensi esterni questi riconosciamo tutti quanti quindi non e quelli che i classici chiamavano i sensi interni adesso li vedremo nella sensualità sono invece presenti le 11 passioni umane queste sono empiricamente constatabili quando erano minori ci accorgeremo che tutti quanti ce li abbiamo alcune che hanno diciamo così a che fare con la concupiscenza cioè con ciò che tende al desiderio diciamo così dall'etico concupiscere significa desiderare in latino e altre passioni che fanno parte di quella che si chiama in filosofia in filosofia tra l'altro scolastica la parte irascibile d'accordo cioè le passioni che hanno a che fare con l'ira ecco mentre quelle del concupiscibile dipende tutte quante dalla passione principale che è l'amore allora sensibilità sensi esterni riconosciamo tutti quanti vista tatto udito gusto e odorato e qual è il senso è come dire più 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 forte diciamo così più incisivo quello che ci condiziona maggiormente penso che empiricamente siamo tutti quanti d'accordo è la vista quello che vediamo ci condiziona fortemente qual è il senso più violento quello che maggiormente ci stimola è il tatto d'accordo quindi già possiamo cominciare a capire alcune cose quali sono invece i sensi interni allora anzitutto noi abbiamo una memoria che funziona anche nella parte inferiore lo vediamo negli animali come fanno gli animali ad acquisire le loro uti mentali conoscenze dietro di me chi vede la diretta differita non si vede a chiudere detto lo vedi come fa il gatto a imparare che questa è casa mia e che qui mangia sta comodo sta caldo eccetera eccetera lo fa attraverso la memoria associativa quindi ai sensi come me quindi agli occhi molto più sviluppati dei nostri tra l'altro gli animali l'odorato molto più sviluppato del nostro l'udito molto più sviluppato del nostro quindi cioè lega quindi associa il fatto che ha mangiato ha dormito è stato bene a questa casa poi si ricorda anche delle persone acquisisce questa abitudine e ritorna sto proprio semplificando proprio al massimo no quindi hanno una memoria anche loro che conserva i dati sensibili e hanno delle facoltà diciamo così rudimentali san tommaso le chiama la cogitativa e l'estimativa non è che pensano loro come come noi no però in maniera molto molto rudimentale molto molto embrionale e come dire accumulano come dire delle forme di conoscenza evidentemente eminentemente sensibile che poi creano negli animali stessi delle abitudini no e così c'è c'è quella che si chiama l'estimativa no cioè lo dice il termine stesso i filosofi classici queste cose nell'originalità derivano da aristotele no che cos'è l'estimativa cioè l'animale capisce come dire si capisce un termine non molto proprio si rende conto della situazione in cui si trova il gatto se vede il cane scappa d'accordo perché capisce intuisce che lì c'è un pericolo quindi se ne va non è che comincia a pensare dunque il cane è un animale che è un predatore dei gatti io sono un gatto quindi scappo questo non lo può fare il gatto perché non ha iniziato come noi ma c'è questa forma rudimentale che è avvertito di un pericolo e scappa d'accordo questa si chiama il senso interno dell'estimativa tanto per far capire o poi c'è il il senso comune lo chiamavano il che questo è un'altra terminologia un pochino un pochino familiare a noi noi lo chiamiamo in maniera un pochino più feriale il buon senso che sarebbe il sostrato dei sensi esterni secondo i i classici no cioè è quella capacità diciamo così embrionale anche qui di di conoscenza che 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 funziona diciamo rielaborando tutti quanti i dati acquisiti dai cinque sensi e poi attenzione c'è l'immaginazione fa parte dei sensi interni anche questa l'immaginazione o la fantasia o che praticamente che che cosa entra dentro l'immaginazione dentro la fantasia a che cosa che su che cosa fantastichiamo su che cosa elaboriamo le nostre fantasie allora dice san tommaso o su quello che hai appreso attraverso i sensi esterni e sulla fantasia condiziona moltissimo il senso della vista dice sempre san tommaso che nella nella parte inferiore dell'anima c'ha libero accesso il diavolo il diavolo non può entrare nelle nostre potenze superiori né tantomeno può muovere la nostra volontà che muove soltanto dio ma nella parte inferiore il diavolo può entrare e il diavolo può suscitarti lui stesso dentro di te una fantasia tu te la ritrovi sembra che sia tua ma non è la tua è la sua o e anche il nostro signore può farci immaginare delle cose belle quando facciamo la meditazione per esempio cioè uno fa un ora fa una manfa si legge un testo sulla passione di gesù cosa fa mentre lo legge apprende alcune cose e dopo di che comincia a immaginarsela chi di voi è capace di comunicare a un altro come si è immaginata la passione di gesù queste sono cose incomunicabili cioè come io mi immagino la passione di gesù io non sarei in grado di 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 descriverlo perché mentre parlo io provoco no cioè chi ascolta pensi ecco cioè le immagini che noi ci creiamo di qualunque cosa sono incomunicabili le conoscerò tanto nostro signore ecco quindi questo è il nostro mondo interiore basso da un punto di vista di quella che si chiama conoscenza sensibile o sensibilità attenzione che le conoscenze superiori partono sempre da questo mondo inferiore quindi perché ci aveva visto bene aristotele d'accordo che noi siamo fondamentalmente una tabula rasa quando noi nasciamo tutto quello c'è la prima parte del percorso che abbiamo fatto adesso non ci stupiamo che forse queste possono assombrare un pochino cose però ripensiamo no e come mai quello che ho vissuto mi condiziona perché io nasco io nasco come tabula rasa la mia anima nasce e la crea bellissima se la potessimo vedere in quel nanosecondo moriremmo di gioia e ci prenderebbe un infarto purtroppo poi lo vedremo immediatamente si macchia incontrata la macchia d'origine prima se riceve il battesimo è meglio è nemmeno da anni si può fare a questa cosa è meglio è vedremo se gli vuole anche questo qui dopodiché comincia un percorso che io da ragazzino cioè è tutto quanto in un continuo una continua assimilazione assimilazione l'abbiamo visto a suo tempo che comincia addirittura dal grembo materno cioè se i genitori strillano il bambino questo lo dicono oggi gli esperti è questa una informazione che so non so citare la fonte ma l'ho sentita come dire affermare da esperti studiosi di questa materia cioè se due genitori litigano il bambino che la mamma porta nel grembo sta male soffre per questa cosa qui ok addirittura dicono gli studiosi imparziali che un feto abortito soffre noi che caspita ne sappiamo di che cosa succede cioè nell'infinitamente piccolo così come in una persona che sta in coma io dico sempre vada a leggere gli scritti di di gloria polo se ci credi noi pensiamo noi vediamo una persona che sta in coma e ci sembra che stia in stato vegetativo e che boh che ci sta a fargli ma siamo proprio sicuri che è così noi non abbiamo la memoria io non ho la memoria non so se qualcuno di quelli che ascoltaranno questa catechesi ce l'ha di come stavo nel grembo di di mia madre questo perché sapete perché questo qui accade secondo la la teologia questo almeno bisogna saperlo che poi uno ci creda non ci creda fare i suoi ma la madonna il nostro signore gesù cristo di quello che accadeva nel grembo della madre se ne rendevano conto benissimo perché non avendo il peccato originale l'uso delle facoltà spirituali l'hanno avuta da subito quindi l'intelletto di maria santissima funzionava da subito l'intelletto di gesù funzionava da subito così come lo so lontano cominciato ad amare dio da subito a fare atti da subito noi no perché abbiamo il peccato originale questo è quello che dice la tradizione e la teologia cattolica d'accordo quindi poi se uno ci credo non ci crede faccia pure d'accordo ecco comunque questo per capire quando noi parliamo della dell'essere umano abbiamo sempre molto 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 tranquilli d'accordo molto molto tranquilli io c'ho un po paura sinceramente di questi dottoroni di questi scienziatoni oggi che sparano ma tu che caspita ne sai di che cosa succede all'inizio della della e in coma che ne sai è vero che quando uno torna dal coma spesso non si ricorda niente va bene ma sei sicuro che il fatto che non si ricordi niente significa che quando lo viveva non ha vissuto niente sei sicuro cioè io andrei sempre molto molto cauto cioè il fatto che io non mi ricordo niente di cosa è successo quando ero un feto di quattro giorni tutti lo siamo stati siamo sicuri che questo significa che che non succedeva niente immaginiamo se uno come dire applicasse bene queste cose cosa dovrebbe pensare per esempio del delitto d'aborto tanto tanto per dirle uno o dell'esecrabile eutanasia però non voglio creare commistioni con altri cicli di catechesi chiudiamo la parentesi andiamo a vedere l'altra parte che è la sensualità cioè la sede delle nostre passioni abbiamo già visto si dividono sei passioni sono del concubiscibile cinque sono dell'irascibile le passioni umane sono undici attenzione al termine no le passioni dal 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 verbo greco d'accordo pasco in greco significa subire cioè tu non è un qualche cosa che fai è un qualcosa che patisci da cui noi diciamo in italiano patire no passione viene da patire quindi per esempio l'ira noi l'ira la sentiamo sorgere dentro di noi non è che io adesso mi metto seduto guardo una cosa dico vediamo un po bisognerà arrabbiarsi un po per questa cosa bene adesso mi arrabbio non facciamo così d'accordo possiamo anche dire adesso mi arrabbio noi diciamo adesso mi arrabbio quando già l'ira c'è salita fino al cervello insomma no partendo dal cuore allora le passioni dell'irascibile sono l'ira la paura poi c'è la paura è una passione si chiamano la la paura e il coraggio le due passioni opposte oppure terminologia sinonimica sono sinonimi se preferite audacia e timore la paura attenzione queste cose saranno anche gli animali è d'accordo il coraggio e la paura poi la speranza e la disperazione abbiamo mai pensato prima che essere la speranza è una virtù la disperazione un peccato grave quando è consentita ma anzitutto sono passioni la speranza quindi l'aspettarsi qualche cosa di meglio qualche cosa di buono è visto quando uno si sveglia cioè quando si sveglia ottimista o si sente depresso si sente depresso quando prevale in lui la passione della disperazione si sente come dire ottimista si sente di buon umore oggi mi sono alzato con la luna dritta mi sono alzato un po di buon umore quando non si sa per quale strano motivo si sveglia la passione della speranza d'accordo queste sono le cinque passioni della parte irascibile penso che tutti possiamo constatare perché loro dicevano i classici che avevano che avevano la sede nel cuore perché osservavano delle trasformazioni empiriche anche qui io ripeto non mi voglio mettere a fare il medico o l'anatomo patologo insomma perché non lo sono no però a livello empirico cioè noi adesso poi vedremo un'altra un'altra passione qui no e per esempio quando uno si arrabbia si dice va al sangue all'occhio quindi ha delle alterazioni anche somatiche no quindi c'è una dilatazione dei vasi sanguigni quando uno c'ha paura si dice ha sbiancato uno diventa tutto quanto pallido e quindi cioè i filosofi classici attribuivano questo a delle come dire differenti modulazioni del sangue e quindi stabilivano come sede propria di queste passioni il cuore ci sono poi le passioni del concupiscibile la più grande l'amore 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 è una passione anzitutto no cosa vuol dire che uno si innamora anche qui innamorarsi nelle esperienze che noi c'erano non è una cosa razionale perché ti sei innamorato di quella un punto interrogativo o di quello sì l'hai visto cioè ma qualcuno sa spiegare questa cosa qui poi c'è la passione dell'odio no adesso l'odio l'odio è una cosa grossa no però pensiamo alle antipatie tu vedi una persona cioè una persona non l'hai mai vista d'accordo la vedi e già ti senti inclinato quindi parte la passione dell'amore anche in senso molto ampio no ti sta simpatica ti senti ben inclinato l'avvicinato è già subito cioè questa è una cosa che ce l'abbiamo tutti quanti e attenzione premetto subito come dice anche sant'ommaso le passioni i primi modi delle passioni non sono mai peccati poi bisogna vedere quello che succede dopo quindi come noi le assecondiamo se sono buone cerchiamo di fermare le sono cattive eccetera eccetera chiusa parentesi amore l'odio sono le prime due piacere e dolore o anche gaudio e tristezza sono le altre due quindi si chiamano piacere quando una cosa un pochino più fisica no dolore quando una cosa un pochino fisica quando una cosa interiore cioè piacere se ti fanno una carezza dolore se ti danno uno schiaffo ecco d'accordo gaudio se ti dicono una bella parola non ti dà un piacere sensibile una bella parola no non è come una carezza non ti tocca la guancia oppure tristezza se ti mandano a quel paese scusate se sono un pochino un po feriale no quindi però il concetto è lo stesso sono quegli stati d'animo gradevoli quindi piacere il gaudio oppure molto sgradevoli cioè il dolore e la tristezza da cui naturalmente noi fuggiamo noi tendiamo verso l'amore e verso il piacere ordinariamente fuggiamo dall'odio dal dolore dalla tristezza come attraverso le ultime due passioni che sono il desiderio il cui contrario alla fuga che si chiamano anche vedete concupiscenza desiderio sinonimo di concupiscenza o ripugnanza quindi d'accordo queste sono le undici passioni dell'uomo ricapitoliamo ira paura e coraggio speranza e disperazione amore e odio piacere gaudio dolore e tristezza desiderio concupiscenza fuga ripugnanza siamo fatti così attenzione abbiamo visto la parte superiore dell'anima la parte inferiore con i sensi adesso andiamo a vedere la parte materiale noi abbiamo un corpo d'accordo e attraverso il corpo noi abbiamo delle funzioni attenzione funzioni che vanno in automatico alcune noi adesso sappiamo attraverso la scienza che si tratta per la grande maggioranza di fenomeni elettrici c'è il sistema nervoso cioè la facoltà locomotiva come la chiamavano i classici quella per cui io mi posso muovere e qui se uno comincia a pensare ai prodigi del corpo umano vedete che pensare a queste cose c'è un salmo che dice ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio cioè prova a pensare a chi sei tu e in se stesso con questa cosa qui cioè io adesso sto parlando se noi potessimo semplicemente provare a fermarci a pensare che succede quando una persona parla mentre parlo sto gesticolando dentro di me si stanno muovendo miliardi di cellule ci sono milioni di processi in atto d'accordo processi che manco io sono capace di dire tutto quanto una volta a me mi hanno io ho portato i ragazzi in un museo a Roma un po' particolare insomma dove c'era una mostra sull'uomo insomma ho un'informazione che ho saputo il giorno è un'informazione scientifica ma a me mi ha preso un infarto mi ha preso capito? mi ha preso un infarto allora sapete allora se uno prendesse i vasi sanguigni dell'essere umano tutti i vasi sanguigni a partire dalle arterie fino agli ultimi capillari e li stendesse in linea retta ma mi ha preso un colpo eh cioè io riferisco l'informazione così come l'ho ricevuta me la ricordo a memoria perché sono rimasto sconvolto era una mostra scientifica eh quindi fatta sugli studi fatti sui corpi umani reali insomma c'erano persone che avevano fatto si erano fatte congelare se non ho capito bene insomma a Roma 6-7 anni fa c'è pure un pochino di foto cioè se noi mettessimo in linea retta i vasi sanguigni di me essere umano io sono alto 1,73 m sono un mezzo tappeto insomma una statura medio-bassa ma se si mettessero in orizzontale i miei vasi sanguigni ma voi sapete che numero si raggiungerebbe? 50.000 km 5 volte aspetta circa 5 volte la superficie della Terra no dunque 60.000 no non sono 5 volte quasi la superficie della Terra la Terra sono 60.000 km la superficie non siamo stupiraggini oh ma 50.000 km ma ha capito? 50.000 km i vasi sanguigni miei dico ma dopo che aspira stanno 50.000 km dentro 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 da me ci stanno dicono non li vedi ma ci stanno perché alcuni sono talmente piccoli ma ha capito? cioè soltanto vedere questo spettacolo unico al mondo uno dovrebbe rimanere esterrefatto se uno va a prendere per esempio cioè voi pensate l'anatomia se tu prendi ogni singola sezione del corpo umano vedete cioè quando uno comincia a perdere la vista comincia per chi conosce la divina volontà a fare giri nella divina volontà e a lotare il Signore per l'occhio umano i nostri occhi io non faccio l'ottico però ora mi sono messo gli occhiali cioè i nostri occhi per esempio mettono a fuoco perfettamente io mi ricordo quando ce li vedevo benissimo io avevo undicidesime diecidesime fino a qualche anno fa ma un occhio perfettissimo cioè vedevo tutto e da lontano da vicino è sempre tutto quanto messo a fuoco la prima volta che mi sono messo gli occhiali si trattavo meglio ma poi quando andavo a vedere da vicino me li dovevo togliere perché da lontano se li vedono da vicino perché se c'hai la lente e la lente è stupida poi mi sono comprato gli occhiali progressivi ma i progressivi non funzionano tanto bene che devi mettere tutti tanti storti l'occhio insomma si è persa una cosa che non c'era più perché la perfezione ci sta dentro l'occhio è una cosa una cosa spettacolare insomma ma così vale per tutto quindi ho dipagato un po' ci abbiamo la vita locomotiva quindi la potenza locomotiva la chiamavano quindi i movimenti che noi facciamo di tipo fisico meccanico ed elettrico sono fondamentalmente e poi abbiamo tutta quanta la potenza vegetativa che funziona per conto suo cioè io devo mangiare mangiare è un atto volontario ma non è che io vado a dire tu allora senti faccio una telefonata dico allo stomaco allora ragazzi ho mangiato cominciamo a produrre succhi gastrici cominciamo il processo della digestione poi sapete tutto il processo della digestione non me lo ricordo più ma è abbastanza complicato insomma quindi la trasformazione cioè dall'alimento grezzo all'energia uff ma è macello insomma bisognerebbe andarsi a ristudiare un pochino di roba queste cose avvengono in noi nella maniera più assolutamente automatica e come mai come mai come mai le nostre cellule che sono intelligentissime come mai sono così intelligenti gli scienziati ci avranno le loro teorie non le conosco io noi cristiani che ci crediamo attenzione questo è vero per tutti noi però ci crediamo e lo diciamo sapete perché io digerisco sapete perché le mie cellule fanno ognuno quello che deve fare perché in ciascuna cellula è presente l'anima con la totalità della sua essenza e le istruzioni c'era la nostra anima gliele dà molto bene a ciascuna parte dell'organismo perché faccia quello che deve fare quindi la potenza vegetativa presiede alla generazione alla nutrizione e alla crescita d'accordo? ecco il capolavoro del corpo umano allora facciamo uno step noi queste cose le possiamo riscontrare però andiamo prima a vedere com'era un tempo e com'è oggi alla luce di queste conoscenze allora bisogna tenere presente una cosa adesso anche qui a prescindere da tutte quante le teorie perché sono teorie scientifiche io sono un sacerdote quindi stiamo facendo un ciclo di catechesi condotto da un sacerdote quindi che evidentemente in alcuni momenti fa riferimento esplicito o come ovvio ai dati di fede rivelata credere o non credere allora non è compito della fede spiegare nei dettagli tutto quello che è successo all'origine dell'umanità no cioè noi adesso dobbiamo un attimo uscire da da alcune noi oggi stiamo in un contesto cioè la conoscenza di una cosa secondo noi non è vera la conoscenza se tu non hai la spiegazione di tutti quanti i meccanismi le dinamiche fino ai minimi dettagli la conoscenza biblica non è così d'accordo tu devi conoscere ciò che è successo non tutti quanti i minimi dettagli capire il quadro secondo quando noi per esempio oggi stanno i telegiornali quindi ci sono le cronistorie le notizie questo per spiegare un pochino di differenze che c'è tra il mondo nostro come dire umano e per esempio il mondo biblico domanda i Vangeli questo lo sanno tutti oggi secondo sono come dire telecronache no non sono telecronache perché non è che ai tempi di Gesù c'era registratore spettornatevi sono così esplicito quindi come stiamo facendo adesso cioè sta catechesi adesso finisce va online se rimarrà tra dieci anni online io me l'ho stato dimenticato dopo domani ve lo dico prima cioè quando vedo il titolo posso immaginare di cosa ho parlato ma non sarei capace di rifarla non è anche io quindi cioè immaginate se voi sentiste una catechesi e dopo tra tre giorni ti dico scrivi la catechesi di Don Leonardo senza averci registratore però attenzione la senti questa sera non solo tra tre giorni i Vangeli sono scritti 30 anni dopo la morte di Gesù allora secondo voi è possibile che dopo 30 anni è stata fatta la cronistoria cioè la cronistoria dettagliata fin nel minimo dettaglio è chiaro che no è chiaro però che la sostanza di tutto quello che stavano detto tutto quanto è giusto è riconducibile alla fonte d'accordo ma noi dobbiamo uscire da questa mentalità che poi è la nostra mentalità contemporanea perché queste cose caratterizzano il nostro tempo le cronistorie 500 anni fa non c'erano una registrazione video di una catechesi penso che forse anche 40 anni fa non c'era d'accordo oh quando ero piccolino quando entro la televisione a colori dentro casa sarà stato il 78 stavano tutti con due occhi così cioè sono diventato vecchierello ma sono passati 42 anni da 30 43 anni dal 78 la televisione a colori era quando facevo la seconda e la terza media era un amico mio un amichetto mio gli regalavano il Commodore 64 non so che chissà qualche annetto insomma i giovani sanno manco che dove c'era il giochetto elettronico stavano tutti in attillava una faccia ma che è sta roba cioè il primo computer che entrò dentro casa mia quello con cui mio fratello scrisse la tesi di laurea in ingegneria un 286 una cosa enorme c'aveva di memoria 2 mega di memoria del disco fisso cioè ma proprio Flintstone assoluto eppure all'epoca sembrava che era entrata alla fine del mondo dentro casa insomma quindi noi non possiamo con le nostre categorie attuali appurciarci a questo mondo allora chiusa parentesi torniamo al discorso qualche parentesi l'apro poi cerco sempre di ritornare di cosa stiamo parlando allora come eravamo noi cosa dice la genesi riguardo la creazione allora che è anche una cosa evidentemente logica d'accordo se uno fa una domanda non dico a noi che siamo credenti ma supponiamo di parlare con una persona che non sia credente senti un attimo immaginati tu che un Dio esista quindi un Dio per antonomasia un Dio insomma Dio è Dio l'idea di Dio ce l'abbiamo facciamo discorsi ma secondo te se un Dio mette mano a qualcosa fa qualcosa se è Dio cioè prima fa così e così poi la migliora poi la migliora poi la migliora Dio questo lo facciamo noi prendiamo gli esempi che ho appena fatto dal Commodore 64 siamo passati agli ultimi della Eppolo che hanno il processore dell'Apple dicono che sia una bomba io non l'ho mai visto l'M1 d'accordo ci sono voluti 40 anni siamo noi che procediamo dall'imperfetto al perfetto giusto no? ma secondo noi Dio fa così? punto interrogativo cioè Dio tira una cosa fuori alla imperfetta e poi piano piano la perfezione cioè proviamo a pensarci un modo di procedere di questo genere è compatibile con l'idea che più o meno tutti hanno di Dio a mio avviso no cioè se Dio fa qualcosa la fa da Dio la fa capito? quindi la fa perfettissima per quanto sta in lui d'accordo? se qualcosa non funziona a sé non dipende da un difetto di produzione dipende da qualcosa che è successo dopo che si è sfasciato o che l'hanno sfasciato chiaro? ora il libro della Genesi dice esattamente questo quando parla della creazione sta dicendo semplicemente che tutto ciò che noi vediamo ha in Dio la sua causa prima non c'era il fatto che ci sia è perché qualcuno lo ha fatto uno seconda cosa la creazione in sette giorni saranno stati sette giorni io non lo so d'accordo? a quanto ne so capito? cioè sono stati sette giorni secondo il nostro computo dei giorni non lo so il fatto però che la Genesi racconti la creazione in sette giorni deve avere per forza un significato ora noi sappiamo nella Sagra Scrittura però il significato del numero sette e non solo nella Sagra Scrittura lo sappiamo anche dalla nostra esperienza empirica adesso io qui mi metto a parlare con fisici e musicisti d'accordo? se qualche fisico è capace di prendere un prisma e quando guarda la lampadina che sta accesa qui in camera mia ci mette un prisma davanti e vede più di sette colori sono i sette colori dell'iride me lo faccia sapere oppure se un musicista delle sette note principali do re mi fa so la si se se ne inventa qualcun'altra qualcuno lo venga a dire dico soltanto queste due cose quindi il numero sette è il numero della perfezione quindi dire che l'universo è creato in sette giorni sapete che significa? significa dire che l'universo da Dio è stato creato in maniera perfettissima chiaro? e questo in alcune cose si vede cioè e adesso che ci vogliamo a fare quella lezione cioè io vi dico le cose che sono successe anche a me quando per esempio ho saputo la velocità con cui la terra compie un giro su se stessa la velocità a cui viaggia intorno al sole se non ricordo male 108.000 km l'ora è tanto eh gli aerei vanno a mille all'ora noi stiamo girando intorno al sole adesso mentre sto parlando qualcuno di voi pensa che si stava muovendo immaginate se noi potessimo percepire 108.000 km l'ora qualcuno è mai stato in aereo quando l'aereo decolla sta intorno ai 300 400 all'ora è una bella sensazione no? una bella velocità insomma no? ma e ci rendiamo conto 108.000 km l'ora quanti sono? cioè eppure noi stiamo viaggiando a questa velocità c'è qualcuno che se ne accorge per caso? la terra gira intorno a se stessa se non ricordo male però non date per certo questi numeri qui perché la mia memoria dovrebbe essere 1800 km l'ora dovrebbero essere non so se 1800 km l'ora o 1800 km l'ora non mi ricordo credo 1800 km l'ora però sì 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 più o meno sì perché se sono 850.000 circonferenze 1800 km l'ora va bene d'accordo per fare un giro di 24 ore d'accordo voi sapete che se la terra per fare tutto quanto il giro a questa velocità attenzione la velocità deve essere forza questa perché se fosse di più se fosse di meno e la terra uscisse fuori da un'orbita ragazzi è finita è proprio finita ora gli scienziati forse sanno dire numeri da quanto tempo io questi numeri non li so non me li ricordo da quanto tempo esiste il sistema solare quello che dice la bibbia è che esiste almeno da 6.000 anni almeno d'accordo perché secondo la cronologia biblica la creazione almeno dell'uomo si colloca intorno a questa data qui quindi è tanto cioè tu sai che sono 6.000 anni che fa sempre lo stesso giro ma sono molti di più quelli del sistema solare d'accordo molti di più allora domanda ma io dico ecco perché la bibbia dice che lo stupido dice che Dio non esiste la bibbia non dice che l'ateo dice che Dio non esiste perché gli atei non esistono esistono le persone come dire attenzione stupido non in senso offensivo d'accordo non in senso offensivo stupido nel senso di figlio mio tu c'hai l'intelligenza ti devi fare qualche domanda non farti qualche domanda importante e non cercare una risposta ragionevole capito cioè dire che dietro tutto questo ci deve essere un'intelligenza è una risposta da persone intelligenti non è una risposta da persone credenti io ricordo anche qui purtroppo non posso citare la fonte però alcune cose mi sento in dovere di citarle dovete fare un atto di fede perché dovete ricordare dovete fidarvi di quello che vi dico quando io studiai uno dei corsi più belli faccio il nome dell'autore che se mi dovesse sentire non credo che si senti a me però mi potrebbe smentire il professor Gianfranco Basti insegnava alla Gregoriana e evidentemente anche alla Tiranense una delle persone più belle una delle persone più intelligenti più colte più istruite lo dico tranquillamente che ho mai conosciuto è stato veramente un piacere sentire i suoi corsi io la filosofia l'ho studiata tutta quanta al liceo classico ma risentire certe cose poi rilette perché questo è proprio un pozzo di scienza si conosceva benissimo la matematica la fisica la quantistica quindi ci ha fatto vedere anche delle correlazioni tra il pensiero di Newton tra il pensiero di Leibniz tra il pensiero di Cartesio con tutto quello che accaddeva nel mondo scientifico uno spettacolo unico al mondo mi dovete credere veramente cioè io ho un ricordo meraviglioso veramente andavo io che stavo con due occhi così veramente con due orecchie così non vedo l'ora che arriva l'azione dei basti d'accordo? ecco tanto per dire questo ci disse ci raccontò questo sacerdote è un sacerdote Don Gianfranco Basti spero che sia diventato vescovo in tanto tempo che non lo vedo se lo stramerita quanto per quanto per i conti comunque ci disse che c'era non so se uno o più scienziati atei che lui ci dava sempre queste informazioni così che aveva fatto un calcolo delle probabilità allora per quanto noi conosciamo dell'universo cioè quasi niente quasi niente e guardate che ne conoscono tanti cioè se uno ha una app se esistono sia per android che per che per che per che per apple scaricatela mappastellare si chiama per 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 apple poi la sera mettete con questo telefonino e puntalo verso il cielo ma guardate che c'è un macello che non c'è c'è costellazioni con i nomi di stelle cose ti dice questa distante e 4 6 mila anni luce questa di un milione di anni luce delle cose allucinanti d'accordo ma tutte queste cose qui che nessuno di noi se le sogna neanche per l'anticamera sono niente sono perché in un universo pare che ci siano infinite galassie cioè una galassia è una cosa enorme cioè noi non potremmo uscire dalla nostra galassia nemmeno se ci avessimo un'astronave che viaggiasse alla velocità della luce cioè 300 mila km al secondo e ce ne sta in una montagna capito cioè questo anche cioè come si fa a dire che Dio non esiste allora questo professore ci diceva attenzione uno scienziato ha detto guardate io non sono un credente non sono un credente però non sono uno stupido quindi un qualcuno che sta dietro a questo ci deve stare per forza per forza e disse perché che non ci sia nessuno la possibilità che non ci sia nessuno è equivalente attenzione l'ho detto altre volte quindi non avrete già sentito dire se io prendo un mio gratto quello che sta lì dietro per chi lo vede in diretta da facebook indifferita non si vede perché non è puntato verso verso lo luogo dove si è se io prendo il mio gatto come dire gli faccio una 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 puntura di adrenalina si impazzisce lo metto su un pianoforte e suona la nona di Beethoven tutta però eh al pianoforte allora quante possibilità ci sono che la mia gattina se gli faccio una iniezione la porto su un piano mi fa sentire la nona di Beethoven vediamo un po' quante è possibile una cosa del genere allora dice allora che tutto questo venga dal caso che è l'anagramma di caos che è la parola degli stupidi d'accordo la parola degli stupidi ma non in senso dispiaciativo cioè di chi non fa funzionare il cervello capito è pari alla possibilità che la mia gattina impazzita suoni la nona di Beethoven sul pianoforte l'ha detto uno scienziato non l'ho detto io ce l'ha riferito Don Gianfranco Basti io non ricordo quindi non mi ricordo chi era uno scienziato non mi ricordo il testo del titolo di filosofia della scienza dove sta scritto questa informazione perché non la posso dare ma questa informazione io la ricordo e mi sembra peraltro molto molto verosimile quindi la dico così come mi è stata consegnata capite quindi ecco perché nei salmi si legge lo stolto dice Dio non esiste ma guarda anche il corpo umano guarda anche il corpo umano cioè abbiamo appena parlato cioè ma il corpo umano cioè nei salmi c'è scritto ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio adesso tu puoi essere buono cattivo puoi essere bello puoi essere brutto puoi essere più grande criminale della terra tutto quello che ti pare ma tu c'hai un cuore che batte c'è un cervello c'è una circolazione sanguigna c'è l'apparato di gerente c'è l'apparato circolatorio c'hai il sistema nervoso cioè tutto quello ce l'hai punto finito ci puoi essere tutto il peccato di gerente quello che ti pare adesso lo vedremo oggi non fa molto tempo la prossima volta vedremo quello che era e vedremo quello che c'è dopo ma uè e tutto questo qui tutto questo qui viene dal caos dal caso ripeto anagramma di caos allora io ragazzini quando mi cominciano a dire ah ma l'universo viene dal caos ce l'ho detto a scuola dico sì ma adesso non funziona dico qualche anno fa no quando appena uscivano i telefonini te piace il telefonino a te dico bello ah bello bello dico bello dico sì guarda un po' prova a fartene uno da solo piga un po' piga un po' un po' di feri un pochetto di plastica mettili dentro a un frullatore e poi gli esce fuori lo smartphone scegli tu poi ti piace l'iPhone ti piace il Samsung fallo usci fuori da solo però che poi che funziona e ti apri tutte le applicazioni quindi pure col sistema operativo e va tutto quello fallo da solo fallo ma cioè il sistema solare in confronto a un iPhone cioè con tutto il rispetto per l'iPhone fa ridere galline l'iPhone in confronto al sistema solare cioè capito fa ridere galline cioè noi non abbiamo esperienza in questo mondo di nulla che sia un minimo ordinato che non ci sia qualcuno che l'ha fatto guarda gira d'intorno d'accordo gira d'intorno noi vediamo o cose naturali che vedi un albero vedi un animale vedi una pianta d'accordo la natura la chiamano oppure vediamo delle cose davanti a me che c'è sta resta un muro c'è sta una libreria c'è sta una sedia e il muro questo l'ha fatto qualcuno eh per fare un muro ci vogliono gli operai che lo tirano su o no si fa da solo il muro avete mai visto un muro che si fa da solo e le cose più belle più complicate più perfettissime se sono fatte da sole le follie del nostro mondo che è il mondo dei fuori di testa proprio ma nel senso buono cioè fuori di testa nel senso che speriamo che non sappiano quello che fanno come dice Gesù in croce no? dico ma si diventa ridicoli si diventa ridicoli ridicoli capisci? cioè non è sei proprio ridicolo cioè tu parli d'altra scienza poi cominci a parlare del caos e dice c'è stato questa grande poi i gas si sono andati a disporre nessuno esclude cioè attenzione la Bibbia non dice come è stato fatto l'universo eh cioè sarà stato il Big Bang e chi lo esclude qualcuno lo esclude e se il nostro signore avesse scelto questa cosa qualche problema c'è ma chi l'ha fatto scoppiare il Big Bang supponendo che ci sia stato e chi è che da lì ha fatto disporre tutto quello che è uscito fuori in maniera perfetta e ordinata così come ce lo troviamo chi da solo da solo ecco allora facciamo uno step o è meglio che ci fermiamo ma è meglio che ci fermiamo perché così la prossima volta oggi abbiamo visto un pochino chi siamo d'accordo e vedendo chi siamo diciamo l'uomo da un punto di vista scusate si dice un pochino ontologico quindi chi è l'uomo è comunque così anche adesso che c'è il peccato originale e che stiamo messi male quello che abbiamo detto oggi noi siamo comunque fatti così solo che vedremo che allora questo lo possiamo introdurre il libro della Genesi dice che Dio ha creato l'universo perfetto ma ha creato anche l'uomo perfetto capito? noi oggi non siamo come eravamo siamo molto peggio ma non perché siamo stati fatti male ma perché ci siamo ridotti male capito? cioè e qui la rivelazione la scienza la contraddice proprio alla grande perché secondo la pseudoscienza che è una teoria scientifica quella dell'evoluzione secondo loro l'uomo sarebbe il punto di arrivo di un processo che va dall'imperfetto al perfetto quindi all'uomo dell'uomo sapiens all'uomo erectus all'uomo della pietra all'uomo della legna e poi l'uomo che assomiglia un po' a noi cioè dallo scimmione all'uomo che poi si capisce manco bene come ci siamo diventati ma su questo proprio la Genesi sta proprio su questo dice l'uomo era uomo poi è diventato scimmione se forse ci sarà stato qualche fossile per carità ma siamo sicuri che c'è stato prima lo scimmione e poi l'uomo o non è stato il contrario perché il libro della Genesi da quello che racconta fa proprio pensare esattamente al contrario cioè se ci stanno queste cose che comunque sono state trovate siamo proprio sicuri che il processo era dal meno peggio al meglio o il contrario meglio peggio che più peggio non si può e poi ci siamo rimessi un pochino meglio ma non proprio come prima punto interrogativo allora quello che la Genesi dice sicuramente è che Dio fa cose perfette e quello che dice come ho cercato di introdurre oggi è anche consono a un minimo di ragionevolezza cioè o Dio non esiste però se Dio non esiste dobbiamo mettere in gatto sul pianoforte e registrare la nonna di Beethoven anzi filmandolo e dimostrando poi che quello non è un montaggio perché oggi si possono fare un sacco di magheggi ok se Dio esiste e fa qualcosa Dio non fa le cose come fanno noi cioè che dobbiamo andare per tentativi quindi cioè la macchina a vapore mica è come le macchine da adesso che ci hanno i terzi cristalli che si accendono da sole e ci hanno che parcheggiano da sole che ha capito ma ci sono voluti 150 anni vanno dalla macchina a vapore a quelle che parcheggiano da sole perché noi siamo esseri umani noi procediamo dall'imperfetto al migliore al sempre più perfetto questo è proprio dell'uomo questo qui d'accordo ma Dio non è così Dio una cosa la fa perfetta gli esce dalle mani perfetta quando qualcosa non funziona non dipende da lui e questo la Bibbia lo dice allora la prossima volta introduco vorremmo andare a vedere e questo la Chiesa lo ha detto lo sa come era l'uomo nello stato di natura integra come uscito dalle mani di Dio è come ci siamo ritrovati oggi perché questo è l'ultimo tassello d'accordo perché prima di capire tutto quello che ci è successo noi dobbiamo anche capire che noi già nasciamo che già stiamo messi male in partenza d'accordo eppure col battesimo si aggiusta un po' ma non è che ritornava giustati come prima d'accordo quindi ecco questi sono dati che da un punto di vista di fede li dobbiamo fare nostri e poi dobbiamo agire di conseguenza questi non sono storiati diciamo che bella sta favoletta a me piace ma ha pagato nonno questo vedremo che da un punto di vista concreto comporta poi delle scelte comporta delle cose che se fanno che non se fanno capiamo no? ecco quindi bene tempo scaduto ci vediamo se Dio vuole la prossima settimana grazie a chi ha seguito e Dio vi benedica la Madonna vi protegga e come sempre alla prossima buon fine settimana a tutti per chi ha seguito la diretta